Con biacca, una punta di ocra gialla e una punta di ocra rossa, imbastisco la forma della prima lumeggiatura utilizzando il pennello di martora. Mantengo sempre una distanza di rispetto dalle linee della grafia. Cerco di comporre figure geometriche esatte e dare espressione alle linee. Passo una seconda volta cercando di conferire la forma esatta alla prima lumeggiatura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Passo una prima volta. La densità del colore è da ricercare continuamente. Dovrebbe lasciare una piccola goccia nel pennello alla fine della pennellata se la densità è corretta. Passo una seconda volta cercando accuratamente la forma conclusiva. Grazie a tutti. Con ocra gialla e ocra rossa molto diluite ricostruisco le ombre. Grazie a tutti. 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 Cerco sempre la migliore espressione della linea. Se il lavoro è stato eseguito correttamente non richiede nessuna velatura aggiuntiva. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.